Ciao a tutti! Oggi prepareremo le pizzette soffici alla Filadelfia. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Ingredienti sono farina di tipo manidoba, Filadelfia, burro, sale e per condire salsa di pomodoro, mozzarella, origano e olio. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale il burro, la farina, la Filadelfia, e il sale. E facciamo impastare per quattro minuti in modalità spiga. Trasferire l'impasto su un piano di lavoro infarinato. Stendere l'impasto con il mattarello. Con l'aiuto di un coppapasta formare le pizzette. Posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno. Una volta formate tutte le pizzette, andiamo a condirle con la salsa di pomodoro. Mettere un po' di origano. Irrorare con un filo d'olio. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15 minuti. Successivamente mettere la mozzarella e metterla in forno altri due minuti. Le pizzette sono pronte, lasciamole intiepidire prima di servire. Pizzette soffici alla Filadelfia. Grazie e alla prossima ricetta! Mettere un po' di origano. Mettere un po' di origano. La pericolazione attivate il buono. Fr Charles Milano